Non abbiamo il prosciutto sugli occhi, c'è sotto un trucchetto qui. Qual è? Ecco. Qual è? Quello di non farne nulla. Noi siamo pronti a votare il Mattarellum tutte le ore del giorno e della notte. Dopodiché vediamo invece che non c'è l'intenzione di farlo sul serio. C'è un trucchetto sotto, si vuole mandarla a sbattere questo Mattarellum con il rischio poi di non fare nulla. Ora siamo ancora carissimo amico sulla legge elettorale. Non credo che possiamo stare tutti in balia del congresso del PD e aspettare le scadenze che vengono sempre calcolate. non si sa nell'interesse di chi. Chi sta bleffando? Perché Rosato ha detto che il Mattarellum va in aula, quindi state bleffando. Voi? Voi? Ah, non lo so. Il PD lo vuole o no? Il Mattarellum. Eh, saperlo. Noi lo votiamo sicuro. Chiaro? Chiaro. Ok. Abbiamo capito qual è la linea di MDP. I giorni pari sono contro il Mattarellum, i giorni dispari sono a favore del Mattarellum. La domenica pausa di riflessione, questa è la realtà che abbiamo di fronte a noi. Ieri da Torre dice di no, oggi Bersani dice che sono pronti, ma quale credibilità c'hanno? I Cinque Stelle hanno cambiato posizione cinque volte. All'inizio hanno votato la mozione mia all'inizio della legislatura sul Mattarellum, poi hanno detto che volevano un sistema proporzionale, anzi andare a votare subito con quello che c'era. Poi hanno detto che volevano il Democatellum, che sostanzialmente è un proporzionale. Adesso dicono che vogliono l'Italicum così come approvato dalla Corte Costituzionale. I Cinque Stelle cambiano posizione sulla legge elettorale quasi come MDP. Il Mattarellum che è l'unica legge che ha funzionato sia quando ha vinto il centrodestra sia quando ha vinto il centrosinistra in questo paese. C'è il rischio che si vada poi a votare con questa legge elettorale e che non si faccia nessun'altra legge elettorale in questa legislatura? Il rischio c'è esattamente come c'era il rischio che il Porcellum non lo cambiasse la politica, ma lo cambiasse la Corte Costituzionale, cosa che è avvenuta. Il rischio c'è con l'Italicum che non vale per il Senato perché fu preteso lo straccio dell'articolo 2, che era esattamente quello che riguardava il Senato. Il rischio c'è perché la politica non riesce a battere un colpo d'ala, ma questo non si può imputare al Partito Democratico. Intanto diciamo che c'è qualcuno che ha anche la faccia come la faccia, nel senso che dice le stesse cose che diceva tre anni fa. Era il 2013 quando la consulta bocciò il Porcellum, tutti erano a favore del Mattarellum, poi si scelse invece di andare verso l'Italicum, il Nazareno. Quindi la prima torsione è stata fatta proprio dallo stesso Renzi, che ne pensino e dicano Rosato e Giacchetti. Ora la riproposizione del Mattarellum anch'io la voterei, ha ragione Bersani e torto chi in MDP dice che non si deve fare la prova. Ho l'impressione però che non ci siano i numeri, questo dovrebbero garantirli quelli della maggioranza, soprattutto se ho capito bene. C'è un'ambiguità del Movimento 5 Stelle che a parole in passato è stato favorevole al Mattarellum a giorni alterni. Quelli che mancano sono i voti all'interno della maggioranza perché Alternativa Popolare, Alfano, i centristi sono contrari. Secondo lei la legge elettorale si farà prima della fine della legislatura o si andrà a votare con questa legge elettorale? Ho l'impressione che infatti dietro al Mattarellum ci sia il Renzellum, cioè la data delle elezioni del 24 settembre di cui si parla in queste ore. E' un atteggiamento che è quello di dire ci abbiamo provato poco e non ci siamo riusciti. Secondo me invece la legge elettorale va sistemata, quella che c'è attualmente è piena di squilibri e di scompensi e porterebbe a un sistema molto imperfetto dal punto di vista della rappresentanza. Si può fare però partendo da quegli stessi amici di Renzi, non ce ne aveva un sacco Renzi, Nazareni, gli Alfani, se non riesce a convincere nemmeno loro. E' difficile immaginare che le altre forze politiche di opposizione siano disponibili. Quindi nel Palazzo lei ci dice che non si è ancora abbandonata l'idea del voto anticipato? No, nel Palazzo si è abbandonata. È Renzi che vuole andare a votare subito? Voto subito, voto subito, voto subito. Ecco, voto subito. So che è un tema che non ha passione, nemmeno noi, ma bisogna fare una nuova legge elettorale. Se si vuole andare a votare, voi il Mattarellum lo votate sì o no? La Lega lo vota domani mattina. Io ho detto fin dal 4 dicembre, dopo la bocciatura del referendum, che la Lega avrebbe sostenuto qualunque legge elettorale pur di far votare gli italiani il prima possibile. Il Mattarellum è già stato utilizzato, ha eletto governi di centrodestra e di centrosinistra, è democratico, ha aperto la scelta dei cittadini. Sono mesi che ne chiacchierano. Noi se lo porto in aula domani lo votiamo domani. Grazie a tutti.